Sotto Traiano, nel 115 d.C., l'impero romano conobbe la sua massima espansione. Il perimetro dei confini terrestri correva per oltre 10.000 chilometri, quasi un quarto della circonferenza terrestre. L'impero includeva zone lontanissime e popolazioni diversissime fra loro. Faceva parte dell'impero romano la Scozia, con le sue fredde terre spazzate dal vento del nord, ma anche il Marocco e il deserto del Sahara, con la gente dalla pelle scura e i capelli neri e crespi. Provincie dell'impero erano tanto l'estremo occidente dell'Europa, Spagna e Portogallo, quanto quello che oggi chiamiamo il Medio Oriente, Turchia, Siria, Giordania e ancor più a est, fino all'Iran. L'antichissima civiltà egizia era da tempo territorio romanizzato, così come lo erano molto più a nord, i boschi incolti e disabitati delle lande germaniche e le rudi tribù che le occupavano.